cari genitori in germania ciao e bentornati l'estate è arrivata e vorrei parlare proprio di quello gli ultimi giorni a scuola prima delle vacanze estive parlando degli ultimi giorni ci sono un sacco di cose belle a scuola perché gli esami non ci sono più i libri sono tornati in biblioteca e non c'è più molto da fare a scuola però la parola più bella a parte le sommerferien rimane una particolare it's free yeah letteralmente vuol dire caldo libero però significa che le lezioni vengono cancellati a causa del caldo e quando ero giovane it's free poteva toccare tutte le lezioni dopo la quarta lezione ma l'hanno ridotto sempre di più e di solito si trovava un foglio al schwarzes brett che informava tutti della situazione per quel giorno però ci sono anche delle belle cose da fare quando si deve rimanere a scuola per esempio la colazione in classe di solito si dice che ogni studente porta qualcosa da mangiare e da bere e visto che i tedeschi mangiano tanto a colazione non ci sono dei problemi con 30 studenti che portano qualcosa da mangiare oppure la classe guarda un film oppure gioca qualcosa insieme all'insegnante oppure un bel cambiamento e anche fare la lezione fuori in quartile quindi draußen un terreno allo stesso tempo per gli insegnanti ci sono altri punti cruciali per esempio il momento in cui vengono elencati tutti i voti quindi nessuno può più cambiare il voto e di solito conferenze la conferenza degli insegnanti quando si discutono dei voti è più importante quando decidono cosa fare con gli studenti che hanno dei problemi e di solito conferenze una giornata molto tremenda e lunga per gli insegnanti perché devono partecipare a un sacco di riunioni di tutte le loro classe e di solito non finiscono prima di sera visto che il Nordenschloss c'è abbastanza presto ci sono ancora due o tre settimane di scuola e per darlo un senso a volte ci sono delle occasioni straordinarie che possono svolgersi senza rubare il tempo prezioso prima del Nordenschloss per esempio la Proiectwoche una settimana di progetti diversi e ogni studente può scegliersi un corso che gli piace dipende ovviamente dalle offerte ma spesso troviamo dei corsi come danza, film, arte, fai da te, cucinare o altro oppure anche una cosa utile come la pulizia del cortile o la ristrutturazione di una stanza per il tempo libero per esempio se i bambini sono piccoli sono i genitori ad iscriverli a un proiect i più grandi lo fanno da soli possiamo anche avere un vandata, una gita che vuol dire che i genitori ricevono una lettera con delle informazioni a volte devono dare il loro ok in altre occasioni vengono chiesti di dare al bimbo dei soldi per un biglietto e verso Pasqua c'è anche un momento molto importante per i grandi del liceo che hanno gli esami di maturità e questo a volte vuol dire che la classe deve cambiare la stanza oppure non possono entrare in un corridoio dove si svolgono gli esami più avanti ci sono delle feste intorno all'Abitur come si chiama la maturità in Germania oppure in forma informale anche l'Abi le feste per esempio sono di Zeugnisübergabe quando ricevono il diploma di maturità l'AbiBall, il ballo e nella mia scuola c'era anche un evento che si chiamava lo scherzo quando gli abitorienti bloccavano la scuola per certe ore e organizzavano una festa nel cortile per tutta la scuola una festa simile può anche essere un Schullfest qualsiasi col cibo e musica oppure forse anche una festa sportiva come la Sportfest oppure una festa a livello federale come i Bundesjugenspiele con le gare sportive e dei certificati per i più bravi l'ultimo giorno si chiama der letzte Schultag e di solito dura solo tre lezioni nell'ultima lezione c'è di Zeugnisübergabe per tutti gli studenti quindi ricevono das Zeugnis, la pagella e poi si va a casa perché sono arrivate le settimane più belle dell'anno di Sommerferien che vengono chiamate anche di großen Ferien le grandi vacanze perché durano sei o sette settimane Parliamo dello Zeugnis di solito gli studenti si devono portare una hülle oppure classichthülle una bustina di plastica per la pagella e se qualche genitore trova il messaggio «Bitte geben Sie Ihrem Kind eine classichthülle mit» vuol dire proprio quello sullo Zeugnis invece troviamo i noten, i voti ci sono i voti per le materie principali che si chiamano Hauptfächer e il voto per un Hauptfach vale di più e ci sono i nebenfächer le materie secondarie troviamo anche di Kopfnuten sono voti per il comportamento c'è da Sozialverhalten il comportamento verso gli altri e das Arbeitsverhalten per l'impegno e la diligenza la pagella deve essere firmata da un genitore e quindi riportata a scuola dopo le vacanze Parliamo un attimo delle materie che sono suddivise in categorie oltre al Hauptfach e Nebenfach troviamo per esempio le lingue ovviamente il tedesco ma anche le lingue straniere e qua un Hauptfach e il tedesco è di solito almeno la prima lingua straniera spesso l'inglese ma a volte anche le prime due lingue straniere abbiamo anche una categoria più o meno artistica con lo sport, la musica, arte e ogni tanto anche materie come Werken e Handarbeiten che più o meno fanno parte dell'arte Werken spesso si concentra sul legno e cose pratiche quindi spesso i studenti costruiscono qualcosa Handarbeiten invece è intorno alla stoffa a cucire oppure lavorare a maglia Poi c'è una categoria ampia intorno al popolo e alla società troviamo materie come Geschichte, la storia Politik und Wirtschaft, politica d'economia Erdkunde, la geografia e poi ci sono altri termini in giro che comunque fanno sempre parte di questi temi qua e quelli dipendono magari dalla scuola dal Bundesland e anche dall'età dei bambini troviamo anche una parte basata sulla religione ed etica e come l'ultima categoria abbiamo le scienze in tedesco di Naturwissenschaften qua troviamo anche l'ultimo hauptfach Mathematik oppure Mathe visto che di solito i Sommerferien sono la parte migliore della scuola purtroppo ci sono anche quelli che non ce l'hanno fatta e vengono bocciati in tedesco parliamo di sitzend bleiben letteralmente rimanere seduto un'espressione anche di versetzung letteralmente letteralmente non riuscire ad avere la promozione oppure nicht versetzt werden non essere promosso e prima di quella fase lo studente a rischio diventa versetzungsgefärdet e quindi la promozione è a rischio e i genitori vengono informati per esempio tramite un blauer brief letteralmente una lettera blu che si riferisce al fatto che in passato le lettere formali erano scritte su carta blu ma ormai è rimasto solo il termine la situazione in cui si trova lo studente è che ha dei voti bassi in tedesco noten unter dem strich letteralmente voti sotto la striscia che sono i voti considerati non sufficienti e parlando delle noten ci sono i 5 e 6 unter dem strich e al liceo dove sono i punti invece delle noten troviamo i punti tra 0 e 4 unter dem strich l'importante qua è che non parliamo di una verifica ma della situazione generale in una materia quindi il voto sulla pagella lo studente qua deve avere un notenausgleich quindi altri voti devono essere buoni per bilanciare quella unter dem strich e spesso si dice che un 5 viene bilanciato con un 2 in un'altra materia oppure con 2 voti di 3 e se il notenausgleich non è possibile ma c'è ancora la speranza di migliorare lo studente viene mandato all'esame di recupero in tedesco di nachprüfung e questo viene stabilito nella Zeugnisconferenz degli insegnanti quindi se avete un figlio oppure una figlia che deve fare l'esame di recupero avrete delle domande per l'insegnante potete per esempio chiedere quando ci sarà l'esame di recupero bekommen wir eine Liste mit den relevanten Themen se vi danno una lista con i temi cruciali welche note muss haben um die Versetzung zu schaffen quindi che voto esattamente deve avere il figlio oppure figlia per essere promosso promossa dopo l'esame di recupero quindi se l'insegnante vi può consigliare un corso oppure un'esame di recupero un'insegnante per la preparazione ricordatevi che è assolutamente vietato agli insegnanti in Germania di dare lezioni privati quindi non chiedete all'insegnante di venire per la preparazione non offrite dei soldi ma l'insegnante può dare consigli può offrire del materiale può consigliare una scuola di nachhilfe oppure un'insegnante che conoscono però non può entrare nella preparazione questo insegnante